Buonasera che siamo venuti in questo nostro video, qua è Antemampri e quest'oggi parleremo un po' del TG Antemampri Allora, ieri, cioè 11 marzo 2021, ci sono stati 25.663 casi e ci sono stati 373 morti in tutta l'Italia ovviamente Per ora, in questi giorni, si parla del vaccino AstraZeneca che tutti sono tutti un po' spaventati perché per ora sono morte tre persone Un insegnante e altre due persone che non ricordo, quindi sono un po', come si dice, pauro, stanno male, cioè hanno paura di questo vaccino Soprattutto le persone che già l'hanno fatta, tipo i miei professori che già l'hanno fatta, sono un po' una certa Però ragazzi, non è tutto detto perché ovviamente è tra corpo e corpo perché se tu sei una persona forte dentro, non hai problemi, allora non c'è problema Poi ovviamente, cioè, se tu hai problemi hai ovviamente maggiore possibilità, però ovviamente si spera che non è un vaccino che può causare altri morti ovviamente Stasera ci sarà di nuovo il tigianto e mafri, quindi non perdetevi Come sto dicendo, non perdetelo perché ovviamente dirò altre cose spero interessanti Porterò i contagi che ci saranno stati oggi, cioè il 12 marzo, sia i contagi che i morti E chiacchieriamo, ovviamente voi fatemi sapere la vostra qui giù nei commenti Seguiteci su Instagram, è Anto e Manfri Seguite anche il mio canale, è quello di Manfri, cioè Manfri, si chiama Manfredi Manfredo e io il rosso sangue Quindi fateci un salto E niente, per questo video è tutto Iscrivetevi al canale